Imitiamo Gesù, lui va per le strade e non ha pianificato né i poveri, né i malati, né gli invalidi che incrocia lungo il cammino, ma con il primo che incontra si ferma diventando presenza che soccorre, segno della vicinanza di Dio che è bontà, provvidenza e amore. Lo ha detto Papa Francesco davanti a molte migliaia di aderenti delle misericordie d'Italia che hanno completamente riempito Piazza San Pietro. Le misericordie, ha spiegato il Papa, sono un'antica espressione del laicato cattolico e ben radicate nel territorio italiano e testimoniano il Vangelo della Carità. Bisogna che le nostre parole, ha detto il Papa, i nostri gesti, i nostri atteggiamenti esprimano la solidarietà, la volontà di non rimanere estranei al dolore degli altri e questo con calore fraterno e senza cadere in alcuna forma di paternalismo.